E' stato recuperato nel pomeriggio di venerdì il corpo di Ciro Palmieri, il panettiere 43enne di Giffoni Vallepiana, ucciso dalla moglie e due figli, arrestati per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dell'azione ed occultamento di cadavere. Era lì dove stessi i congiunti avevano indicato, una volta scoperti nell'efferato delitto, dalle videocamere di sorveglianza, in un dirupo alla frazione Curticelle, non lontano dall'abitazione di famiglia, dove lo hanno recuperato i vigili del fuoco assieme ai reparti speciali speleoalpini fluviali. Mercoledì è stata fissata l'autopsia sul corpo dell'uomo, venerdì pomeriggio è stato sentito il 15enne figlio del defunto che ha partecipato al delitto. Nelle prossime ore toccherà l'altro figlio di 18 anni che svolgeva il servizio militare al nord e alla moglie, presunta regista del delitto. Una famiglia di 5 persone, padre, madre e tre figli, di cui solo uno maggiorenne, distrutta da una storia di sangue. La videosorveglianza ha mostrato ciò che è accaduto, diverse le telecamere interne che servivano l'impianto nella zona, ma le immagini del 29 e 30 luglio, date a cui risale il delitto, erano già sovrascritte. È stato il consulente tecnico della procura a recuperarle. In esse si vede chiaramente l'inizio della lite con l'uomo aggredito dalla moglie, Monica Milite, e dai due figli, Massimiliano di 18 anni e l'altro di 15 anni. Un assalto proseguito con diverse coltellate sferrate anche quando la vittima giaceva in arme a terra. Sotto lo sguardo sbigottito e attonito scrivono gli inquirenti di un altro figlio dell'età di 11 anni. Le immagini mostrano anche i tre tagliare una gamba per imbustare il corpo e disperderlo nel dirupo. Poi la donna avrebbe denunciato la scomparsa del marito, affermando che non era tornato da lavoro e di averne ritrovato solo gli indumenti in una busta davanti al cancello, nonostante in casa ci fossero documenti e cellulare. Da chiarire cosa ha portato a tanta inaudita violenza, in passato ci sono stati degli episodi in famiglia che avevano portato all'intervento delle forze dell'ordine. Sette anni fa Palmieri era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti, ma si indaga anche sui conti e sugli aspetti economici di questa famiglia.